Buonasera raga, e adesso patacolizziamo la pagelle della nostra Juventus. Vamos, vamos cazzo, vamos! Cerni, 5, ha grandissime coppie su quanto è 1-0 dell'Udinese questa sera. Danilo, 5 e mezzo, leggermente deludente rispetto alle ultime uscite questa sera. Bonucci, 6, buona partita da parte di Bonucci questa sera. De Ritt, 6, buona partita anche per lui questa sera. Aleksandro, 5, insufficiente questa sera, e anche lui ha grandissime coppie su quanto è 1-0 dell'Udinese. Quadrado, 6, tanti cross messi in mezzo questa sera, ma poco incisivo rispetto alle ultime uscite. Bentancur, 5, grandissime coppie anche lui su quanto è 1-0 dell'Udinese. Mekinni, 5, anche lui insufficiente, con grandi coppie anche lui su quanto è 1-0 dell'Udinese. Bernardeschi, 4 e mezzo, inguardabile, inguardabile Bernardeschi questa sera. Dibara, 5, anche lui, partita veramente insufficiente questa sera. Ronaldo, 7, inguardabile per 80 minuti, ma poi doppietta nel finale che ci consente di portarci a casa questa vittoria. Cambi, Krusevski, 5 e mezzo, poco incisivo quando è entrato il secondo tempo questa sera. Morata, 5 e mezzo, poco incisivo anche lui quando è entrato il secondo tempo questa sera. Rabiot, 6 e mezzo. Assis per Ronaldo per il gol del 2-1. E Correa, senza voto. Bene ragà, con questo è tutto. Vi auguro una buona serata. Iscriviti al canale YouTube e seguite i mani su Instagram, su Jeb, tatirabasso, bianconera. E seguitevi specialmente sulla pagina Facebook di Jeb Bianconera. Fino alla fine, forza Juventus. Buona serata a tutti ragà. Ciao! Ciao!